Ben trovati e ben trovate da Andrea Cartotto. Questo breve videocorso è per tutti i colleghi e le colleghe, creativi e creative, che desiderano ricercare non le solite immagini, e le intendo come foto, ma immagini in 3D libere dal diritto d'autore, le cosiddette immagini royalty free. Dove andarle a prendere? Da Google Immagini? Certo che no! Lì sappiamo bene che le immagini sono sempre di proprietà di qualcuno, salvo qualche eccezione. Ebbene, prendiamo un comune browser e in alto nella barra degli indirizzi del nostro browser appunto, digitiamo clouddevs.com slash, lo osservate, 3dbay, perché la baia 3d, 3dbay, e ringrazio della segnalazione il caro amico Albano Battistella, è il contenitore repository da cui scaricare con facilità belle immagini in 3D da utilizzare per pubblicazioni, artefatti digitali per coinvolgere i nostri alunni. Possiamo in alto a destra sia utilizzare il pulsante categories per poter andare a ricomprendere già, insomma, alcuni ambiti e clicchiamo su view all, lo osserviamo insieme, qualora ecco il nostro ambito di interesse non fosse qui, altrimenti andiamo a digitare, vi consiglio di fare una semplice digitazione in lingua inglese, nella barra di ricerca al centro il termine da cui desideriamo ottenere l'immagine 3d. Ora io per farvi capire di che cosa stiamo parlando, vado su categorie, vado a scegliere per esempio, lo avete visto, environment, quindi l'ambiente, perché? Perché pensando all'educazione civica e all'agenda 2030, ecco guardate un pochino, abbiamo, vado a cliccare, una serie di immagini relative all'ambiente, agli alberi e non solo. Come potete vedere, e ne parlo anche in un altro videocorso sul medesimo tema, sempre qui sul mio canale YouTube Trainer Andrea, a destra abbiamo la risoluzione, cioè la qualità complessiva della immagine che intendiamo scaricare, ci viene ribadito che si tratta di immagini libere per usi commerciali senza alcuna richiesta di attribuzione, un bel click sul pulsante lente Download e all'istante in formato PNG, un formato, l'ho già detto in vari miei videocorsi, adatto e ottimale sia per la qualità che per preservare la trasparenza di sfondo, ecco potremo così scaricare la nostra immagine, veramente con estrema facilità. Tanto è vero che ora controllo sempre dove sto salvando, cartellina dei Download del mio computer, confermo l'operazione con un click sul pulsante Salva e ecco a me e a voi l'immagine 3D pronta per essere utilizzata. Ancora un caro saluto a tutti e a tutte da Andrea Cartotto e vi do sin d'ora appuntamento al prossimo videocorso. Ciao!